10 ottobre giornata mondiale della salute mentale istituita nel 1992 dalla federazione mondiale per la salute mentale riconosciuta dall'organizzazione mondiale della sanità promuove la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale il tasso di persone colpite da disturbi mentali è aumentato a livello globale e la loro discriminazione continua a ostacolare l'accesso a cure adeguate con le giuste strutture sociali e istituzionali la prevenzione dei disturbi mentali possibile i luoghi di lavoro possono essere opportunità verso la guarigione viceversa la disoccupazione o le cattive condizioni di lavoro sono fattori che facilitano l'insorgere dei disturbi la pandemia di covid 19 ha creato una crisi globale per la salute mentale alimentando disturbi d'ansia in molti milioni di persone occorre rafforzare l'assistenza sanitaria mentale attraverso una rete basata sulla comunità di servizi accessibili convenienti e di qualità in molti milioni di persone occorre rafforzare l'assistenza sanitaria in molti milioni di persone occorre rafforzare l'assistenza sanitaria Grazie per la visione!